La linea Ex Novo Restauro Storico è una gamma completa di prodotti ecocompatibili. Tra i prodotti di questa linea, adatti al consolidamento di murature, vi voglio citare il legante per iniezioni 790. Si tratta di un bio-legante resistente ai solfati, a base di calcio idraulica naturale NHL 3.5 e filler classificato. Viene utilizzato per iniezioni di consolidamento di fondazioni e murature di edifici storici, comprese le porzioni che sono state oggetto di scucci-cucci. L'iniezione di miscele eleganti è una tecnica di consolidamento di murature caratterizzata da una significativa presenza di vuoti, tra loro collegati, ed è finalizzata al miglioramento delle caratteristiche meccaniche dell'elemento. Compatibilità della boiacca alla muratura e adeguata pressione di iniezione rappresentano i capisaldi di un intervento efficace e durevole. Prima dell'utilizzo di legante per iniezioni 790 è in ogni caso necessario che la muratura sia preventivamente saturata con acqua, utilizzando gli stessi fori predisposti per l'iniezione di consolidamento. In ogni caso, all'interno della muratura non ci deve essere la presenza di acqua stagnante. Consiglio inoltre di provvedere alla sigillatura delle vie di fuga della boiata della muratura utilizzando il prodotto Special Wall B550M, alla speciale formulazione della boiata si abbina una gamma di accessori ed un macchinario dedicato per un'applicazione ottimale.